Il Taranto è una squadra ostica, la classifica strutturalmente è messa bene, noi non ci nascondiamo, sappiamo qual è il nostro obiettivo, fare tutte le partite una finale, quindi conostiamo la nostra forza e ciò significa che ogni partita che andremo ad affrontare l'affronteremo come se fosse la partita della vita. Oggi il futsal monopolista ne è partito benissimo, già dopo pochi secondi in vantaggio, quindi partita mai in discussione se vogliamo. Sì, diciamo che l'unica pecca sono stati all'inizio del secondo tempo i falli fatti, quindi siamo andati a subire poi il quinto fallo e un paio di tiri liberi, però tutto sommato è stata una partita che abbiamo ottenuto sotto controllo dal primo secondo. Dove vuole arrivare il futsal monopolista ne è? Il futsal monopolista ne vuole arrivare a scrivere ancora la storia per questo paese se è possibile, noi ce la mettiamo tutta, abbiamo una società predisposta a farlo, ci crediamo, ci crediamo anche perché non ci nascondiamo, gli obiettivi sono quelli, si spera di arrivare a fare le Final 8 come lo scorso anno e quindi vediamo. Ogni partita, lo ripeto, sarà una finale da vincere. A proposito di finali, ora ad inizio anno si inizia proprio con il botto, rega al butto e poi Napoli. Sì, esattamente, domenica prossima andremo in Sicilia e poi ospiteremo il Napoli che è l'altra squadra, diciamo l'unica squadra forse nel momento che sta dimostrando di essere ai vertici e effettivamente è bella tosta, però noi non abbiamo timore di nessuno, li affronteremo sul parquet e poi sarà il campo a decidere. Ebbè, il roster sicuramente lo permette e c'è solo Diogo ancora acciaccato mi pare, però dovrebbe essere pronto a rientro. Diogo ormai sì, dovrebbe essere pronto a rientro, si spera proprio contro il Napoli perché serve anche lui il supporto lottivo. Non sono io certo a dire che Diogo lo ha dimostrato in tutti gli anni da calcettista, quindi è sempre un nome in più. Bene, complimenti a Peppe Fusco, Vice Presidente del Fuzzone Polistica. Grazie, buona serata.